E ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Roid e la build che state vedendo è CritFlock 2.0, la mia nuova versione di una delle mie primissime build che shotta qualsiasi cosa e senza Revolter, però se lo utilizzate shotta ancora di più. Se vi interessa vedere direttamente il gameplay vi invito a cercare nei timestamp in descrizione altrimenti partiamo subito con la spiegazione della build. Allora, come detto prima, la build è senza Revolter, ma il Revolter è incluso e lo vedremo alla fine perché comunque con questo fate più danno. In generale qual è la combo principale della build? La combo principale è usare uno stackbot che per ogni colpo critico che fate vi aumenta il danno, ma se non fate critico, quindi fate un qualsiasi danno che non sia critico, se mancate non importa, lo stackbot perde le cariche. Questo, in congiunzione con l'invisibilità di Flak che vi permette di fare colpi critici infiniti, vuol dire danno altissimo. La seconda componente è il Company Man. Nella prima versione della build usavo la perla. La perla però, se mancate anche un singolo proiettile, perde il danno e in più i bonus che ha sono abbastanza penosi. Company Man vi dà 50% danno, 50% danno colpo critico, ricarica arma e poi ha 3 passive buone. Ricarica arma ancora, tempo di ricarica dell'abilità e capienza caricatore. Quindi Company Man per me è assolutamente superiore alla perla in questo caso. Un'altra cosa utile è l'Hunter Seeker, che sono granate a ricerca che sparano e grazie alle nostre abilità, quando la vostra abilità è in cooldown, lanciate questa e ve la riporterà up. Infine gli scudi. Abbiamo tre scelte. Stop Gap a livello 1, per chi sa sfruttare l'immunità, oppure Stop Gap a livello 72, per chi non la sa sfruttare ma vuole comunque resistere, o altrimenti il Revolter per triplicare il danno che, vi assicuro, sarà già enorme, ma comunque lo testeremo. Per quanto riguarda, invece, le armi, ho cercato di prendere la scelta più ampia possibile di darvi tutte le armi che penso siano forti. Vediamo le armi singole e poi vediamo le combo. Sicuramente Monarch, assicurato, così come il Becca. Per quanto riguarda le pistole, invece, abbiamo le King's Call di ogni elemento, abbiamo la Maggie, abbiamo la Trickshot, abbiamo la Quick Throw, abbiamo la Seven Sense. Ce n'è veramente per tutti i gusti. Abbiamo poi due fucili da cecchino principali, Unseen Threat, che quando fate colpo critico fa rimbalzare tre proietti nelle ricerche che fanno molto danno, e Wedding Invitation perché fa tantissimo danno, fa danno fuoco e il colpo che rimbalza fa danno ghiaccio e quindi è ancora forte. Infine abbiamo tre armi che sono, diciamo, una sorta di combo. La prima è o un Bankstick, guardate che sia per 18, oppure Stagecoach che sia per 25. Una di queste due. Le potrete trovare casualmente, non c'è altro modo di formarle, quindi dovrete solo avere fortuna per trovarle, oppure attivizzare il save file che troverete sul mio Discord. Queste qua serviranno, con l'invisibilità a soli tre colpi, non i colpi infiniti, a dare i primi due colpi con questi, possibilmente Stagecoach, altrimenti Bankstick. Bankstick con la modalità appiccica. E poi il terzo colpo va dato col Nukem o con un cecchino. Principalmente questo tipo di combo la farete contro un grande gruppo di nemici, quindi usate il Nukem e come terzo colpo questo Nukem andrà praticamente a polverizzare ogni nemico, pesante, super pesante, non importa, verranno polverizzati. Con i boss questa combo funziona molto molto meno e non vi consiglio di farla. Vediamo quindi i punti abilità. Sono un po' cambiati rispetto alla mia build originale, sono stati tolti dei punti inutili che vi davano un heal che non serviva e sono stati aggiunti i punti per guadagnare danno extra, come ad esempio questi nel ramazzurro per guadagnare fino a 40% danno e sbloccare l'animaletto che vi dà 5% danno e 10% danno arma. Insomma i punti li state vedendo qua, come vi dicevo prima la build può essere utilizzata con sparizione e a scelta o non è il mio circo o guerriglia nella nebbia in base a che nemico dovrete scontrarvi, mentre l'altro punto sempre niente poter, ma se non vi piace l'invisibilità potrete sfruttarlo anche con racca all'attacco. In questo modo però non sfrutterete lo stackbot e dovete usare un'altra mod di classe. Infine, gradi guardiano come al solito ce li ho tutti a parte l'ultimo verde che lo sto per sbloccare e caos 11. Andiamo quindi a provare subito la build. Siamo quasi arrivati quindi intanto vi invito ad iscrivervi per non perdervi nessuna delle prossime build che escono ogni pochi giorni. Quindi eccoci qua, direi di far subito questa zona senza revolter con qualche arma giusto per mostrarvi come funziona e poi provarle con revolter. Quindi andiamo a controllare che l'abilità sia settata nel modo giusto, quella verde. Deve essere colpi infiniti in questo caso, quindi mettiamoli e partiamo con la Monarch. Potrete usarla anche senza usarla C, shot uguale. Però giusto per, vedete che la Monarch non si fa problemi. Andiamo poi a cambiare. Trickshot non ha neanche bisogno dell'abilità, questa pistola shot assolutamente. Vedete che anche contro un supergigante, stando a terra senza abilità, è assolutamente forte. Andiamo poi a prendere magari Wedding Invitation. No, scusate, questo è l'Hancing Threat, ma è comunque forte uguale. Ecco qua, andiamo a prendere il Wedding Invitation, visto che è una delle armi nuove. Giusto per, vedete, mostrarvi. Shot assolutamente non si fa problemi a shottare qualsiasi cosa. 47 milioni. Infine, prendiamo la Seven Sense per l'ultimo nemico che mi ha sfuggito prima. Shottato. Quindi, andiamo nella prossima zona e vediamo con Revolter la Devastazione. Eccoci qua. Abilità. Letteralmente, i nemici, boh, puff. Cioè, non c'è altra definizione. I nemici fanno puff. E vedete che la Monarch non gli interessa neanche utilizzare l'abilità. Andiamo a cambiare. Qui Trickshot, giusto per fare un pochino di qualcosa diverso. Vedete che anche la Trickshot non ha problemi. Revolta la rende solo più forte. Andiamo a prendere la Wedding Invitation, non l'abilità down. Andiamo a prendere l'Unterseeker per guadagnare critici. Quindi. 57 milioni. Letteralmente, non c'è nemico che tenga. Quindi, direi di passare direttamente a Tronta per avere un pochino più di sfida. Mi ero dimenticato di mostrarvi la combo con Stagecoach e Nukem. Quindi, eccola qua. Abilità, quella con i tre colpi. Un colpo di Stagecoach. Un secondo colpo di Stagecoach. E poi Nukem. Vedete che è assolutamente sciotta. Potete fare anche un secondo colpo di Nukem. C'è ancora le cariche del vostro staccobot, eliminerete tutto. Andiamo da Tronta per davvero. Eccoci, praticamente arrivati da Tronta. Andiamo a pushare e... Partiamo di Monarch. Testeremo un po' le armi migliori. Neeeee! Queste sì che sono cose belle. Testiamo un'altra arma. Proviamo adesso la Kingsgol Quingsgol. Scriviamo il muro come al solito. Ahhhh! Bello, ne? Visto che Tronta scoppia tanto velocemente, andiamo direttamente alla Graveward per vedere se riusciamo a fare qualcosa di migliore. Eccoci arrivati da Graveward. Andiamo quindi a provare ancora Monarch e Kingsgol per vedere che differenza c'è rispetto a Tronta che praticamente non ha HP. Aspettiamo il solito ciclo in modo che abbiamo più tempo per fare danno. Queste sì che sono soddisfazioni. Molto soddisfazioni. Andiamo a tornare al menu principale e proviamo con Kingsgol. Ecco qua, Graveward ha fatto il solito pattern. E' ora di spammare. Vedete che questa build è molto divertente. Avrete armi per ogni elemento, per ogni tipo di nemico e per ogni combo abbiate voglia di fare. Il save file è veramente completo. Quindi se vi interessa vedere altre build assolutamente fantastiche, cliccate qui.